Stefano De Martino è al settimo cielo e i suoi fan lo sono altrettanto nel vederlo col sorriso ritrovato. La notizia ha regato di lacrime di gioia agli occhi dei followers. Dal momento che non capita certo tutti i giorni di sentire una news simile, Stefano è diventato zio poiché sua sorella Adelaide ha dato alla luce il piccolo Mattia. È stata proprio la ragazza, di solito molto riservata nonostante la sua notorietà come fashion blogger seguita sui social, a comunicare di aver partorito. Dopo essere diventata madre per la prima volta, il bimbo è venuto al mondo a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, presso la clinica Villa Stabia. Adelaide De Martino ha condiviso la lieta novella con i suoi follower, scrivendo, Mattia Di Domenico, 28 novembre 2023. Benvenuto amore! La famiglia si è allargata e sono momenti di grandissima gioia, segnati dal trionfo della vita e dall'ennesimo miracolo che si compie, fiocco azzurro. Dunque, in casa De Martino, una nascita speciale che rende Stefano finalmente zio e i genitori di De Martino Nonni Bis dopo la nascita di Santiago, avvenuta quando il ballerino professionista aveva solo 20 anni. Un tripudio di emozioni e felicità che avvolge la famiglia in questo momento così speciale. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video, e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere, e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.